Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Il Presidente della Regione Frattura punta i piedi e prende le distanze dalle decisioni assunte precedentemente dai commissari alla sanità. Rimendichiamo l'autonomia decisionale della Regione, ha detto il Governatore. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Riflettori sempre accesi sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, più che mai alle prese con i ricorsi al tarre, i debiti pregressi e con i vincoli derivanti dal piano di rientro che si ripercuotono inevitabilmente sui livelli essenziali di assistenza e sulla qualità del servizio erogato ai cittadini. Tra l'altro i Ministeri dell'Economia e della Salute, per il tramite dei tavoli tecnici nazionali, impongono in continuazione tagli sul trasferimento delle risorse e scelte spregiudicate che comportano la riduzione qualitativa e quantitativa dei servizi sul territorio. I malcapitati cittadini si difendono come possono e attraverso i tanti comitati pro-sanità impugnano al tarre i provvedimenti imposti dall'alto e quasi sempre la spuntano. Insomma, si procede a colpi di ricorsi contro i dic-tac dei commissari inviati da Roma, i quali perseguono un unico obiettivo, quello di far quadrare i conti. Da qualche tempo però anche il Governatore, nonché Assessore e Commissario ad Acchetta alla Sanità, Paolo Frattura, si è schierato contro i ragionieri romani per rivendicare maggiori risorse e per affermare l'autonomia decisionale della Regione. Telemolise invece da sempre, con i tanti editoriali, l'ultimo di ieri ha puntato i piedi in difesa della sanità molisana schierandosi contro la logica dei numeri. Sembra quasi un editoriale fatto ad arte. Ho condiviso totalmente quanto affermato. La Regione rivendica la sua autonomia. Non è la Regione, non è la gestione regionale causa dello sfacello economico-finanziario e di offerta sanitaria della nostra Regione negli ultimi sei anni, ma è ascrivibile esclusivamente alla gestione commissariale, commissario, subcommissario e assistenza. C'è una presa di posizione ferma che riportiamo sicuramente sul tavolo tecnico, ma a questo punto ci sarà una condivisione anche degli organi, partendo dal Governo per riportare la discussione in Consiglio regionale. In questa ottica qual è la sua idea di sanità? La riorganizzazione mi pare di averla chiarita con la proposta dei piani operativi. Una sanità capillare, una sanità che distingua nettamente acuto e post-acuto, cronico e lungodeggente, una sanità che faccia l'emergenza urgenza, una presenza capillare sul territorio. E il Presidente Frattura ha incontrato a Termoli il Comitato per la Difesa dell'ospedale Santimoteo. Questo presidio, ha affermato il Governatore, uscirà rafforzato dalla nuova riorganizzazione sanitaria. Fabrizio Occhionero. Quello redatto dal Commissario Basso resta solo un'esercitazione. Così come è impostato, non lo firmerò mai. Così il Presidente della Regione, Commissario ad acta Paolo Frattura, ha definito il piano per il riordino sanitario, rispondendo così al lungo elenco di dati e di richiami riportati in un documento stilato dal Comitato Civico, nato per la difesa dell'ospedale di Termoli. Dalla nuova riorganizzazione a cui stiamo lavorando, ha affermato il Governatore, il Santimoteo ne uscirà sicuramente rafforzato, tenendo presente tutta una serie di parametri. All'incontro che si è svolto nei locali del Cinema Oddo, hanno preso parte medici, personale sanitario, cittadini, tutti insieme determinati per chiedere garanzie riguardo ai riparti, ai posti letto, a servizi indispensabili e alle misure che in sostanza, come evidenziato dal Presidente del Comitato, Nicola Felice, possano garantire il diritto alla salute in basso molise ed evitare gravi conseguenze ai cittadini. Senza escludere sacrifici, frattura condiviso a Termoli, l'idea di una sinergia che si costruisce con gli operatori che sono impegnati nelle varie realtà e con un'area che offre le professionalità necessarie sulla base di un'analisi epidemiologica e dati certificati. Una nuova offerta sanitaria concluso non in linea con le aspettative del singolo, ma con le aspettative del territorio. Il Comitato per la difesa dell'ospedale Santimoteo ha assicurato che continuerà a vigilare sulle azioni in programma per tutelare i diritti di oltre 100.000 cittadini. I fondi destinati alla Termoli San Vittore non sono stati affatto spostati sulla Telesina. La smentita ufficiale della notizia arriva dall'assessore regionale alle infrastrutture Nagni. Secondo alcuni, nell'articolo 11 ter del decreto del fare, si stabilirebbe la sottrazione al Molise da parte del governo Letta di 256 milioni di euro stanziati dalla delibera Cipe del 30 agosto 2011 per assegnarli alla Campania. Una interpretazione sbagliata del passaggio del testo legislativo, secondo Nagni, che ribatte non creiamo allarmismi, i fondi restano al Molise. Secondo le notizie che stanno circolando in questi giorni, continua Nagni, la Telesina avrebbe addirittura assorbito tutte le risorse destinate alle infrastrutture del sud oltre ai fondi per il post-sisma e post-alluvione in Molise. Una possibilità del tutto illogica e non realizzabile, precisa l'assessore. Nella realtà la Termoli San Vittore viene invece rilanciata dal governo che spinge perché si arrivi presto alla definizione della procedura dei lavori, conclude Nagni. La cronaca è di due morti e diversi feriti. Il bilancio dell'incidente mortale che si è verificato sull'autostrada a confine tra Abruzzo e Molise. Alcuni volontari in pensione non molisani si stavano recando a Benevento con il loro pulmino quando sono precipitati in una scarpata. I soccorsi sono partiti anche dalla nostra regione. Sentiamo i particolari da Fabrizio Chionero. Il terribile incidente è avvenuto lungo l'autostrada 14 al confine tra l'Abruzzo e il Molise. Sul pulmino viaggiavano sei persone, volontari e diretti da una prima ricostruzione a Benevento per partecipare a una gara nazionale di primo soccorso. Sarebbero usciti proprio al casello di Termoli per raggiungere la campagna. Invece, forse per lo scoppio di una gomma, il mezzo ha sbandato sfondando il guarderei del viadotto ed è precipitato nella scarpata, un impatto violentissimo contro un albero che non ha lasciato scampo a due dei passeggeri, tutti della provincia di Lecco. Le vittime avevano 62 e 58 anni. Per estrarre i volontari dalle lamiere accartocciate del furgoncino sono intervenuti anche i vigili del fuoco. A chiamare i soccorsi è stato un contadino che si trovava nei campi proprio sotto i pilastri del ponte. Gli altri quattro passeggeri, tre uomini e una donna, tra i quali l'autista, sono stati trasportati anche in elicottero in tre ospedali abruzzesi. Due di loro sono gravi, soccorsi arrivati anche dal Molise con le ambulanze del 118 e della Misericordia. Traffico bloccato in direzione sud per consentire l'intervento di una gru necessaria per sollevare il mezzo e recuperare i corpi delle due vittime. Sul posto la polizia autostradale di Vasto, che ha raccolto le prime testimonianze ed effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Franca Colella, 49 anni, è la nuova segretaria generale del Comune di Isernia scelta dal sindaco Luigi Brasiello, che questa mattina l'ha accolta in città conferendole ufficialmente l'incarico di nuovo vertice amministrativo di Palazzo San Francesco. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Allora, sindaco, ha trovato finalmente il nuovo segretario generale del Comune di Isernia? Ma sì, praticamente abbiamo terminato la procedura. Io ho individuato l'avvocato Franca Colella, amica, persona da me già conosciuta, professionista impeccabile e io sono certo che la figura adatta per cominciare quella riorganizzazione di cui il Comune di Isernia ha bisogno. Devo dire che ce la siamo anche contesa tra diversi sindaci, ma alla fine il sindaco di Isernia l'ha spuntata. Allora, Franca Colella, avvocato, segretario generale del Comune di Sulmona. Arriva da Sulmona a Isernia, quattro passi, insomma. Arrivo da Sulmona a Isernia, sono stata segretario di Casteldisangro e prenderò servizio per qualche mese nella città di Pomezia. Sono molto felice e gratificata per questa scelta che il sindaco ha fatto sulla mia persona e prometto di mettercela tutta, tutto l'impegno, tutta la mia conoscenza per assecondare e risolvere le problematiche di questa città. Quando entrerà in servizio? Il sindaco ha concordato la presa di servizio per il 15 gennaio prossimo. Quindi ci saranno tre mesi, tre mesi e mezzo in cui ho comunque offerto la mia collaborazione per cominciare ad affrontare le problematiche dell'ente, anche da Pomezia. Isernia è un capologo di provincia. Cosa cambia rispetto ad altri centri non capologo di provincia per quello che riguarda la legge? Sicuramente per la mia persona è un'occasione di crescita professionale perché questa è una segreteria di fascia prima A. Sotto il profilo lavorativo io mi auguro di riuscire a fare del mio meglio. Scintille in Consiglio Comunale a Termoli dove la minoranza ha protestato per la mancata discussione del punto che chiedeva la revoca del Presidente del Consiglio Alberto Montano. Una richiesta dichiarata irricevibile dallo stesso Montano in quanto ha spiegato richiamando il regolamento e difendendo il suo operato anche leggendo una comunicazione del prefetto. Non c'era un atto deliberativo. Di diverso avviso i consiglieri di opposizione che tra le urla hanno battuto più volte le mani sui banchi ritenendo invece possibile il voto e poi hanno deciso di abbandonare l'aula annunciando anche denunce. Ecco vedete le immagini. Intanto dopo 15 mesi l'assessore Bruno Verini ha restituito al Sindaco Antonio Di Brino la delega all'urbanistica motivando la decisione tra le altre cose con la mancanza di un confronto politico e amministrativo. Politica in fibrillazione in vista delle elezioni comunali di Campobasso intanto gli aspiranti candidati alla carica di Sindaco affilano le armi. Anna Maria Di Matteo. È stato il suo posto per dieci anni ma ora Salvatore Colagiovanni dice basta ed esce allo scoperto. In vista delle elezioni comunali di Campobasso previste per la prossima primavera il capogruppo del PDL rivendica la candidatura a Sindaco della città un sogno accarezzato da anni e che ora vuole trasformare in realtà. Colagiovanni ha presentato richiesta formale al partito che ha assicurato una risposta entro la fine di settembre. Il consigliere comunale attende dunque di conoscere il suo destino politico se la risposta dovesse essere negativa ma con una motivazione che non lo convince Colagiovanni è pronto a presentare una propria lista e percorrere altre strade. Chi invece sembra essere intenzionato a proseguire sul percorso già avviato è il sindaco uscente Gino Di Bartolomeo che non avrebbe nessuna intenzione di mollare. Nonostante i problemi che attanagliano la città e malgrado le critiche rivolte anche da una parte della sua stessa maggioranza il primo cittadino non sarebbe disposto a rinunciare alla candidatura ma non sarà certo lui a decidere. E sempre all'interno del centrodestra è già ufficiale la candidatura di Pino Saluppo che avrebbe già creato una rete di liste cive che di sostegno. Nel centrosinistra all'interno della coalizione c'è Fermento. L'attuale capogruppo del PD Antonio Battista scalpita per la candidatura sindaco ma secondo indiscrezioni la sua candidatura sarebbe insidiata da quella di Augusto Massa pronto a scendere nuovamente in campo per lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio. Uno scontro sul quale metteranno mani i vertici del partito per evitare pericolose frizioni interne. Previste anche le candidature da parte del Movimento 5 Stelle di costruire democrazia. La corsa al comune di Campobasso si annuncia a vincente. Da oggi il Santuario della Dolorata di Castelpetroso è Basilica Minore Pontificia. La cerimonia di elevazione si è tenuta nel pomeriggio il rito celebrato da Monsignor Bregantini e concelebrato dal Vicario Episcopale per il Santuario Don Mucilli ed altri sacerdoti della Diocesi. Si è svolto alla presenza di tutte le autorità e davanti a una grande folla di fedeli. Questo di oggi è un premio, un riconoscimento ha detto Bregantini nell'Omelia all'Elevazione e la Basilica Pontificia ci impegna a mantenere con il Papa un legame di forte vicinanza e preghiera. Questa Basilica sarà lo spazio dove ritrovare la pace e dove si matureranno scelte forti di vita, ha concluso il Vescovo. Commovente l'addio a Edilio Petrocelli nella Cattedrale di Isernia tutti i rappresentanti della sinistra molisana. Dopo la cerimonia religiosa la commemorazione dell'ex parlamentare davanti alla Chiesa con l'intervento di diversi esponenti del mondo politico regionale. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Cattedrale, Gremita, Isernia per l'ultimo saluto a Edilio Petrocelli ex parlamentare ed ex consigliere regionale prima del Partito Comunista e poi dei DS. C'erano praticamente tutti gli esponenti della sinistra molisana nella Chiesa Isernina per l'addio a un uomo che è sempre stato un punto di riferimento preciso per la politica regionale. dopo la cerimonia religiosa la cerimonia civile della commemorazione all'esterno della cattedrale lì dove hanno parlato il sindaco Brasiello il presidente della provincia Mazzuto il segretario regionale del PD Leva e l'ex collega di consiglio regionale e amico di lunga data Norberto Lombardi. Io ritengo che Edilio Petrocelli è stato uno dei migliori deputati che questa regione ha avuto pur partendo da una posizione di opposizione è riuscito a costruire e a dare significato e dignità alla politica di una regione. È stato un comunista che ha guardato lontano e che è riuscito per le cose che ha scritto per le cose che ha fatto è riuscito a dare il senso di un cambiamento reale alla società molisana. Edilio Petrocelli ha significato tanto per la nostra regione e per la provincia di Isernia. Negli ultimi anni quando è stata messa in discussione la vita stessa della provincia Petrocelli è stato anche nominato presidente dell'associazione nata in sua difesa. Sottolineato anche il forte legame che legava l'ex parlamentare alla sua famiglia alla moglie Marisa e ai figli Umberto e Isabella Enrico Santoro suo collega alla regione ha svelato un altro particolare inedito quello che Edilio insieme al fratello Tonino fu l'autore del basso rilevo artistico in ceramica che orna la facciata del tribunale di Isernia. Io credo che di Edilio mi piace ricordare anzitutto un episodio il pannello che è davanti al Palazzo di Giustizia è opera di Edilio e del fratello io ero presidente della commissione che aggiudicò e giudicò le varie proposte quando approvamo quel pannello e vedemmo il disegno io dissi ad Edilio di illustrarmi ancora di più e meglio la sua idea e lui mi ebbe un'espressione bellissima che io ho ricordato anche stamattina col fratello ci sono tante proposte la giustizia fatta con la bilancia con la lama forte come senso di forza a me piace e a noi è piaciuto significare la giustizia con l'omogeneità con la regolarità con la semplicità ecco tutti devono vedere in questa forma così regolare la regolarità della giustizia e una giustizia che sia uguale questo non l'ho mai dimenticato e qualche mese fa ci siamo rincontrati proprio davanti al Palazzo di Giustizia e abbiamo commentato queste parole stamattina a Cottonino abbiamo proprio detto questo di nuovo la salma di Edilio Petrocelli dopo i funerali è stata trasportata al cimiterio di Acquaviva di Sernia paese di origine dell'ex deputato Pentro e adesso il ricordo di Edilio Petrocelli nelle parole di Antonio D'Ambrosio un politico di razza coerente con le sue idee ma disponibile a dialogare con tutti negli anni 80-90 ha saputo rappresentare la sinistra più illuminata pronto a cogliere le novità e a guidare i frenetici cambiamenti della società molisana schierandosi sempre dalla parte dei più deboli Edilio Petrocelli il professore ha lasciato un vuoto incolmabile e un ricordo indelebile è stato un punto di riferimento vedevamo in lui quelle giovani speranze una giovane generazione del partito che c'è insieme agli altri ma in particolare lui ci ha saputo indirizzare educare e sapeva accogliere insomma anche le nuove speranze della nuova generazione che eravamo che eravamo noi quindi una persona attenta e poi era un uomo colto uno studioso studioso amava questo Molise la sua storia ed era orgoglioso di questa appartenenza diciamo a questo territorio esco a parlare dei 50 anni della nostra regione era orgoglioso ho assistito più volte sono stato a Roma con lui quando era debutato anche come difendeva e come con orgoglio raccontava questa regione e poi di una grande bontà non ha mai trascurato ecco di investire sui giovani tenuto in considerazione dallo stesso Enrico Berlinguer da tutta la classe dirigente perché sapeva rappresentare con quel tratto di cultura sia le problematiche non solo della regione ma anche in campo nazionale un punto di riferimento comunque di tutte le amministrazioni locali che pochi altri della politica molisana hanno saputo fare notevole anche il suo impegno culturale beh ha prodotto una qualità e qualità incredibile di documentazione storica per la nostra regione e di riflessione anche aveva non solo una memoria fisica ma la documentazione che produceva e archiviava era un punto di certezza quindi lascia un ricordo sul piano della politica sul piano personale sul piano dell'impegno sociale civile e culturale crede è enorme e si sono svolti questa mattina a Isernia i funerali di un altro esponente politico di spicco della città si tratta di Spartaco Mercurio figura storica della destra molisana e Isernina più volte consigliere comunale voce tra le più ascoltate del dibattito politico Mercurio è stato rappresentante autorevole prima del movimento sociale e poi di alleanza nazionale anche per lui numerose testimonianze di cordoglio e solidarietà alla famiglia Il Partito Socialista in campo per la difesa dei diritti dei cittadini raccolta di firme per cinque referendum e presentazione di un'iniziativa contro il femminicidio sentiamo Marta Martino Ti amo da morire questo lo slogan che il Partito Socialista ha scelto per portare avanti una battaglia iniziata da qualche tempo contro il femminicidio borse e ombrelli rossi con la frase che vuole ricordare che purtroppo d'amore si può anche morire in maniera violenta e la cronaca da un po' di anni testimonia questa amara verità ma l'iniziativa presentata nella sede del partito a Campobasso non si fermerà alla diffusione di questi gadget che presto saranno disponibili in tutti i centri della regione per raccogliere fondi e finanziare una campagna informativa nelle scuole di cui si occuperà l'ufficio della consigliera regionale di parità in cantiere c'è anche un altro progetto un concorso letterario che si svolgerà tra il 25 novembre e l'8 marzo giornata in cui hanno detto Miniscalco, Poleggio e De Mattia si spera di vedere in giro meno mimose più rose simbolo dell'iniziativa bisogna agire sull'educazione e la mentalità dei giovani e delle comunità perché le donne vittime di violenza non debbano portare anche il peso dell'indifferenza o peggio dell'emarginazione come avviene in qualche piccolo centro molisano ha commentato Giuditta Lembo che ha anche ricordato che finalmente anche la regione molise tra le ultime in Italia avrà una legge contro il femminicidio ma i diritti delle donne non sono gli unici su cui il partito socialista si è concentrato infatti è iniziato anche una raccolta di firme per cinque referendum i temi sono quelli cari ai socialisti non solo a noi temi importanti che si ricollegano anche a grandi battaglie fatte nel futuro vorrei ricordare ad esempio sul divorzio breve noi diciamo che non bisogna più aspettare dalla data della separazione fino ad arrivare all'ottenimento del divorzio ai famosi tre anni quindi lo vogliamo ridurre il problema dell'uso delle droghe è leggera parliamo di immigrati ecco oggi si punisce una colpa si punisce una condizione voglio dire non una colpa e quindi si è molto sensibile a questi temi e così di via 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 diciamo che il nostro impegno è totale perché vi è totale condivisione su temi che sono temi importanti proseguirà anche domani la raccolta firme del PDL per il referendum una giustizia giusta proposto dal partito radicale i gazebo saranno allestiti a Campobasso in piazza municipio dalle 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20 a Termoli in piazza Monumento e a Isernia in piazza Mercato negli stessi orari sarà presente all'iniziativa anche il commissario del partito Carlo Sarro Agnone si mette sulla scia dei comuni virtuosi e lancia il servizio della raccolta differenziata porta a porta si comincia alla fine del mese sentiamo dal 30 settembre ad Agnone cambia musica i cassonetti spariranno dalla strada diventerà infatti operativa la raccolta porta a porta dei rifiuti dopo una prima campagna informativa l'amministrazione comunale e la ditta che svolgerà il servizio hanno cominciato a consegnare nuovi contenitori ai cittadini è una cosa su cui abbiamo puntato fin dall'inizio fin da quando abbiamo iniziato la nostra azione amministrativa l'idea di potenziare il ciclo di rifiuti passare al metodo del porta a porta è un metodo che sicuramente viene utilizzato nella maggior parte dei comuni quelli che vengono definiti virtuosi quei comuni che funzionano quei comuni dove effettivamente anche questo aspetto della vita sociale cioè della gestione dei rifiuti non viene considerato come un qualcosa di marginale ma viene considerata come un qualcosa di importante anche per lo sviluppo complessivo sia in termini sociali e sia in termini anche economici perché ci tengo a dire che con questo sistema di raccolta porta a porta e con l'ambiente quindi nel settore ambiente si creano posti di lavoro gli agnonesi finora sembrano aver raccolto positivamente la novità del resto anche loro vogliono dare il proprio contributo sul fronte della tutela dell'ambiente certo è che di fronte alla novità di questa portata i dubbi e in alcuni casi qualche disagio non mancheranno almeno nella fase iniziale ma gli addetti sono a disposizione per rispondere a tutte le domande poste dai cittadini dobbiamo dire che finora i cittadini sono venuti anche loro abbastanza entusiasti nel senso che non abbiamo riscontrato lamentele anzi più che altro curiosità capire come funziona il nuovo sistema noi stiamo dando le giuste informazioni ci stanno anche gli ispettori ambientali c'è la ditta che ci fornisce i contenitori c'è la ditta che ci gestisce il servizio quindi praticamente siamo al completo siamo in grado di dare tutte le spiegazioni successo di pubblico per la presentazione al Teatro Savoia di Campobasso del libro Incipit Apocalipsis scritto da Franco Valente sentiamo applausi scroscianti un teatro Savoia pieno l'architetto storico Franco Valente assoluto protagonista nel presentare il suo nuovo libro Incipit Apocalipsis un romanzo storico sul Molise per il Molise un giallo particolare al centro il monastero di San Vincenzo Volturno la morte del teologo Ambrogio Autperto in circostanze misteriose è stato ucciso? la soluzione nella lettura delle immagini della cripta di Epifanio dove Valente nella finzione del romanzo rimane chiuso per tre giorni e non può uscirne non è stata semplicemente una presentazione di un libro ma restituire dignità a un contesto storico che ha la sua importanza e che poi è un contesto nel quale si sono sviluppati gli avvenimenti di San Vincenzo Volturno che rimane uno dei pilastri della storia dell'alto medioevo in Europa io spero che il libro serva a far conoscere questa realtà Valente ha letteralmente conquistato i presenti con una lezione di storia e architettura di letteratura e pittura ad accompagnare le sue spiegazioni la lettura di brani del libro da parte dell'attore Edoardo Siravo e il suono dell'arpa mirabilmente accarezzata da Filomena Caterina a coordinare la serata il collega Tonino Danese l'evento è organizzato in favore dell'associazione pro malati oncologici Anna Pistilli Sipio Perazzelli il libro sta avendo un grande successo e sembra essere il primo di una trilogia di Valente una trilogia che comunque vede degli avvenimenti che passano per la cripta di Epifanio che io continuo a considerare uno dei punti di incroce di tutta la cultura alto medievale ovviamente sono romanzi che servono soprattutto a creare l'opportunità di conoscenza di fatti storici che molto spesso noi sottovalutiamo Franco Valente poi è intervenuto sulla paventata chiusura del Savoia simbolo non solo per Campobasso ma per l'intero Molise il Teatro Savoia appartiene a tutto il Molise quindi l'ipotesi di una chiusura sarebbe l'inizio di una sciacura il Teatro Savoia deve continuare a vivere e a vivere molto meglio di come ha vissuto fino a oggi è necessario soltanto quell'intervento politico che potrà garantire il futuro di questo importantissimo monumento molisano Festival del talento della creatività all'ex Gil di Campobasso una giornata dedicata ai giovani tra i 18 e 25 anni per spingerli a credere nelle loro capacità e investire nel loro futuro Marta Martino cucina creativa fotografia disegno e creazione di siti web laboratori di scrittura ma anche lavori manuali stampe di magliette oggetti vari artigianato del legno tatuaggi officine di biciclette arte della pasta e laboratori agroalimentari con incursioni tra vino e fitosoluzioni e ovviamente le opportunità di avere informazioni sul lavoro in regione in Italia o in Europa anche quest'anno la provincia di Campobasso insieme a quella di Isernia Palazzo San Giorgio Conf Cooperative Eurodesk Compagnia delle Opere e le associazioni Praxis e Sei Torri tornano in campo per offrire ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni una giornata di formazione e informazione sono stati svolti una grossa selezione su 150 ragazzi selezionati 80 ragazzi 60 su Campobasso e 20 su Isernia che hanno iniziato dei percorsi formativi dei laboratori nell'ambito della cucina creativa del web writing nell'ambito della fotografia creativa e del designer su Isernia tutto questo perché far capire ai giovani nella fascia d'età tra 19 e 25 anni quanto è importante credere nelle proprie capacità nei propri talenti e soprattutto se hanno della creatività di esprimerla incanalarla in laboratori proprio fatti apposto grande fermento tra gli spazi dell'ex Gil di Campobasso dove i ragazzi hanno allestito il loro stand e partecipato al laboratorio e convegni scambi di idee spunti per nuove idee per far sì che i ragazzi imparino a investire su se stessi e su quello in cui credono i loro personali talenti questi ragazzi hanno fatto poi dei percorsi di orientamento al lavoro di creazione di imprese e oggi per questo festival hanno lavorato realmente cioè con i nostri associati hanno lavorato a creare questo festival hanno richiesto relatori hanno richiesto determinati tipi di workshop rivolti a giovani come loro nel pomeriggio spettacoli teatrali e in serata a Piazzetta Palombo un concerto di sei band Molisane grande successo già dalla prima serata per la quinta edizione della festa del mais in svolgimento a Yeltsi l'associazione La Meridiana ha proposto le arepas venezuelane stasera la replica ma con un menù tutto ispirato alla tradizione molisana Giuseppe Carriera 50 kg di farina di mais importata direttamente dal Venezuela per 1250 arepas fraganti panetti fritti imbottiti con carne di maiale di vitello con formaggio o con uova e cipolle queste specialità insieme alle empanadas che per gusto e aspetto ricordano i calzoni ripieni della tradizione italiana rappresentano il menù offerto a Yeltsi nella prima serata della quinta edizione della festa del mais organizzata dall'associazione La Meridiana la serata del venerdì ormai da due anni è dedicata alla cucina venezuelana in cui l'uso del mais è molto diffuso e l'associazione può vantare al suo interno diversi membri che hanno trascorso buona parte della loro vita nel paese sudamericano portando con sé non soltanto le ricette originali ma anche gli strumenti del mestiere come la tabla indispensabile per dare alle empanadas lo spessore ideale o la carmenzita una spezia capace di donare un colorito rosso intenso all'impasto senza renderlo per questo piccante o alterandone il sapore quest'anno la festa si è spostata alla fine di Corso Vittorio Emanuele in via Andrea Variante alle spalle del monumento ai caduti in una struttura riscaldata di 500 metri quadrati con 500 posti a sedere nella seconda serata quella di oggi torna invece il tipico menù a base di mais per la sagra della pizza minestra e cicoli con un vassoio ricco di gusto e tradizione pizza e minestra pizza peperoni e cicoli granone bollito e un dolcetto al mais per terminare la gente già collaborata l'anno scorso quest'anno c'è una maggiore affluenza e questa è la soddisfazione più grande che io posso avere e ringrazio tutti i partecipanti che sono venuti piatti gustosi leggeri sapuriti per non rinunciare al gusto di un alimento semplice come il mais sperimentando accostamenti inediti che rapiscono il palato senza allargare però il girovita con un'attenzione particolare anche alle esigenze dei ciliaci una festa che è capace di unire attraverso la grande qualità delle materie prime tradizioni culinarie apparentemente tanto lontane ma in pratica vicinissime come quelle iersesi e venezuelane Anche domani porte aperte nell'unica concessionaria Volkswagen per il Molise Vitale Motor per la presentazione della nuova Polo Tech Sound la si può provare nella concessionaria Vitale Motor a Campobasso nella zona industriale e a Termoli in via delle Acace E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci Grazie a tutti